Matera palcoscenico dell'olivicoltura internazionale, due importanti momenti hanno aperto i lavori, un'occasione di confronto tra i paesi del bacino del Mediterraneo sul turismo dell'olio con importanti esperti. Oggi abbiamo una grande opportunità perché finalmente in Italia esiste una legge nazionale sul turismo dell'olio, quindi da gennaio di un lamento noi come associazione nazionale negli ultimi tre anni abbiamo profuso uno sforzo straordinario nel sostegno all'approvazione della legge che da gennaio di un lamento in realtà ha al pari della legge sul lino turismo e a febbraio 2022 sono stati sottoscritti i decreti attuativi. Il lavoro che si deve fare oggi è quello di sensibilizzazione verso le regioni, non lo stiamo facendo con i protocolli di intesa affinché mettono in campo le iniziative anche di carattere legislativo per recuperare l'impianto della legge nazionale e disciplinarla a livello locale. È una straordinaria opportunità perché appunto è una multidisciplinarità che nelle aziende olivicole diventa un'opportunità oggi per dare innanzitutto valore al prodotto, il dramma nell'olivicoltura è che il prodotto olio extravergine di oliva di qualità spesso è percepito come una commodity, come un prodotto piatto, non capace di differenziazione, quindi magari nel consumatore, nell'immaginario collettivo l'olio può costare anche 3,50 euro sullo scaffale del supermercato, così non è perché l'olio è un prodotto di eccellenza, di straordinaria qualità. Le 550 cultivarie italiane che sono oltre il 40% della biodiversità olivicola sono un patrimonio inestimabile che dobbiamo salvaguardare e valorizzare, quindi l'obiettivo attraverso l'olioturismo è questo, dare valore al prodotto e per quanto ci riguarda dare valore alle comunità, consentire la riscoperta dei luoghi, delle aree interne.